ciao a tutti carissimi ritrovati nel canale allora eccoci qua di nuovo con i nostri bullettini sempre dedicati ok cominciamo dai numeri fortunati vediamo un po questo è richiesto da valentina bregoli o bregoli allora con il numero non sono stata fortunata volevi il 23 ma questo il 24 spero che ti va bene comunque non c'era il 23 della 682 ok adesso vogliamo ritornare senza fare casino la lina ok penso che va bene ok vediamo un po ok vediamo tutti no allora buona visione carissimi passiamo la nostra cattata primo numero abbiamo il 32 che non c'è incominciamo bene poi abbiamo il 63 eccolo 63 ce l'abbiamo 58 non c'è abbiamo il 24 bene una vincitina l'abbiamo già 61 non lo vedo c'è 71 poi abbiamo il 12 eccolo ultima riga 48 anche ultima riga e 59 seconda fila e 59 seconda fila abbiamo 43 eccolo segui 71 eccolo ora abbiamo Erik eccolo eccolo e ecco eccolo 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 ecco Ci ha fatto credere che ci escono questi altri numeri, ma niente. Comunque siamo già fortunati ad avere una vincita. Vediamo un po' quello che ci dice. Cinque euro, bene, meglio di tre. Ok, carissima. Carissima Valentina, il tuo biglietto è vincente. Mettiamolo da parte. Adesso passiamo alla battaglia navale, richiesta da Micaela Lauretana. Ciao Micaela. Ecco qui la tua battaglia navale. è il numero 41 della serie 86. Bene, vediamo se l'inquadratura va bene. Penso di sì. Allora, prima coordinata. Abbiamo E2. Eccola, incominciamo col tempo in acqua. Abbiamo C7. Ok. H6. Ok, questa è quella grande. E6. Ok, quella piccolina da 2. B6. Acqua. B7. Ok, ma questa è quella grande, quella da 4 forse. F7. Vediamo colpito colpito. H4. Questo è quello da 5. H7. H7. E' sempre quella da 5. Ultima coordinata, F5. Eh, niente, peccato. Acqua. Eh, va bene. Ci ha fatto credere, ma niente di fatto. Vediamo un po' il nostro scrigno. Se si vuole mostrare, alla lina, di nuovo, lo scrignetto. Quante barche, bacchette, bacchettine. E' niente di fatto. Niente scrigno. No. Mi dispiace, carissima. Micaela, ma il biglietto non è vincente. Sarà per la prossima volta, ok? Adesso passiamo alla prossima battaglia navale. Richiesta da Sebastiano Sinatra. Ciao, Sebastiano. Ecco qui la tua battaglia, numero 25, della serie 64. Ok. No, scusate che la linea sta confondendo qualcosa. Oh, no, questa qui era già battata. Scusate, l'ho confusa con quelle che ho già. Scusatemi. Ecco qui la tua battaglia. Sebastiano, Sebastiano Sinatra. Sì, era per te questo, Sebastiano. E questo è il sedio 86, numero 42. Eccola, questa è la tua battaglia. Avevo confusa con una che avevo già accretato. Ok, che io le mischio quando le compro e poi ho sbagliato a prendere. Vabbè, comunque, Sebastiano, questa è la tua battaglia. Vediamo un po' quello che ti dice. Allora, prima coordinata, E1. Ok, cominciamo con la grande. A3 Ok, F2 D2 Acqua D5 Acqua D4 Acqua, bello, proprio un'acquata questo biglietto. D1 C1 C1 H2 Ultima coordinata F4 C1 Niente caro Sebastiano, niente di niente, vediamo un po' con lo scrigno come stanno le cose. Niente scrigno, niente, niente, non c'è scrigno. Ok, va bene. E questo biglietto anche per gente, caro Sebastiano. Mi dispiace, sarà per la prossima volta. Ok, ok. Allora, adesso ci grattiamo... Vedete cosa ci grattiamo? Un simbolo che... Questo lo dedico a tutti, carissimi, non ho una richiesta precisa. E lo dedico a tutti. Questo è 06, la serie 59. Vediamo un po' che ci dice. I simboli, che non gratto spesso questi simboli. Vediamo un po'. Allora, primo simbolo. Lingotto. Poi abbiamo il ferro. Il ferro. Questo già ci ha chiuso con il ferro. Il bonus ci dice moneta. E sotto abbiamo una stella. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Moneta. Questa è buona. E lingotto. Questo abbiamo chiuso con lingotto. L'unica possibilità è la moneta. Vediamo un po' se c'è una stella. E vediamo un po' che ci dice. E niente, niente, carissimi. Niente. La lina con questo bigliettino proprio non va d'accordo. È rarissimo che mi sia qualcosa. Ma veramente non li prendo neanche tanto. Vabbè carissimi. Comunque oggi con la nostra grattata abbiamo fatto. Abbiamo grattato quattro bigliettini. Abbiamo ripreso cinque euro con i numeri fortunati. Ecco qua. È la nostra vincita. È il nostro recupero di cinque euro. È di gabbia carissimi. Tanto vi ringrazio a tutti per aver seguito il video. Per la vostra visualizzazione. E mi ringrazio tanto ancora. Ok. Il gatto che vuole sempre... Con tutto ciò che ha aperto la porta. E vuole entrare dalla finestra. È sempre stato. Va bene. Va bene così. Ok carissimi. Allora. Vi auguro una buona giornata. Una buona serata. Secondo quanto vedete il video. Intanto vi do appuntamento al prossimo video. Con un recupero di cinque euro oggi. Va bene. Anche così. Un bacio. Un abbraccio alla lina. Ciao ciao. Pollice in su. Iscrivetevi e condividete. Ciao a tutti. Al prossimo video. Ciao a tutti.